In questo numero. Accordo in extremis, definita in zona Cesarini l'intesa per il budget 2014 dell'Unione, compromesso con la Gran Bretagna. Padoan e Artuì soddisfatti, 5 stelle critici. Che clima c'è a Lima? Il Parlamento europeo interviene ufficialmente con una delegazione alla conferenza sui mutamenti climatici in Perù, confermati gli impegni dell'Unione per emissioni e Green Climate Fund. Le tre sillabe del terrore. Lo sparacchio dell'ebola spaventa l'Occidente. L'Unione europea discute su prevenzione ed aiuti, ma è soprattutto una malattia della miseria. Conosciamo i commissari. Si conclude il nostro viaggio nella nuova Commissione europea, di scena Han, Hill, Mogherini e Juncker. L'intervista. Eleonora Forenza, europarlamentare della lista Tsipras, parla della battaglia per la trasparenza che conduce contro le trattative segrete dell'accordo di libero scambio Europa-USA.